Oggi ad Albino si è tenuta la prima assemblea dopo la dichiarazione di fallimento del cotonificio Onegher. Come è andata e qual è lo stato d'animo dei lavoratori? Lo stato d'animo dei lavoratori sostanzialmente è veramente di livello abbastanza sereno da un certo punto di vista, o meglio, qualcuno dichiara che è rassegnato, ma in funzione di una gestione che noi stiamo provando a fare sul territorio cerchiamo di dire che la rassegnazione è l'ultima delle strade da seguire. I lavoratori oggi comunque hanno fatto un po' di domande rispetto al loro futuro, su questo noi gli abbiamo detto che nella prima gestione cercheremo in tutti i modi di sollecitare ancora Confindustria Bergamo, tutte le aziende sul territorio per vedere se ci sono possibilità di assunzioni, tenendo presente che dal 25 di giugno in poi tutti i lavoratori dovranno andare dai centri dell'ufficio per l'impiego, dovranno iscriversi come disoccupati e poi avranno a seguito la possibilità di essere iscritti in mobilità. Le aziende possono assumere questi dipendenti con la mobilità con gli sgravi previsti dalle normative. E da questo punto di vista diciamo che almeno per quanto riguarda il problema del licenziamento, nel 2014 sono in vigore ancora le normative chiamate precedenti alla normativa Fornero, alla legge Fornero, dove nel 2015 sarebbe andata a tagliare dei periodi di accompagnamento come ammortizzatori sociali. Questo per cui è un pezzo importante nella gestione. Non solo questo, all'incontro è venuto, sono presentati su nostra richiesta il direttore dell'ufficio per l'impiego, il dottor Butera, dove per cui dovrà accogliere la maggior parte dei lavoratori perché sono più o meno residenti al Bino, ha dato indicazioni delle sedi comunque del centro per l'impiego dove devono andare secondo la residenza, per cui qualcuno a Clusone, qualcuno al Bino, Bergamo, Ponte San Pietro e così via. E da questo punto di vista l'inizio. Il secondo passaggio è stato anche detto che poi verrà fatta la procedura in mobilità, dando loro indicazione del giorno, dell'orario e dove presentarsi secondo le sedi sindacali di riferimento come iscritti. L'altro pezzo ancora abbiamo fatto venire a questa riunione anche i responsabili degli uffici vertenze, perché purtroppo i lavoratori da un concordato sono passati a una modalità di fallimento e lì bisogna che tutti i lavoratori, per cui anche quelli che hanno cessato prima, per cui dal 2013 in poi in modo particolare, devono per recuperare i loro soldi fare l'insinuazione del recupero crediti. I nostri uffici vertenzi hanno predisposto anche lì, consegnato oggi, una modulistica a tutti questi dipendenti, facendo sapere loro che verranno seguiti i documenti da produrre, poi verranno chiamati per mettere in atto la procedura. E questo è un pezzo che riguarda questa gestione. Abbiamo anche sollecitato e dichiarato che faremo ancora dei passaggi in funzione, come si diceva prima, di due cose, una possibilità occupazionale per cui ricerca, come qualcuno ha già fatto, trovando un lavoro e andando in mobilità in modo anticipato all'uscita, disponibile a ascoltare tutti quelli che hanno bisogno per agevolare le assunzioni. Dall'altra parte però ci serve anche una spinta rispetto al recupero crediti, perché la domanda del lavoratore diventa anche io devo gestirmi la vita, ho dei soldi comunque che devo prendere, che mi spettano, al di là della procedura, i tempi della gestione. Lì noi non abbiamo indicato dei tempi perché non sono scelte sui tempi che possiamo decidere noi. Sappiamo che la prima udienza ad oggi è stata indicata per il 30 di ottobre, per cui tutto il conteggio deve essere presentato per il 30 di settembre, un mese prima, e da lì per cui partono veramente i tempi per attivare la procedura.